L'affidamento è quando una famiglia si ha una difficoltà e ricorre all'aiuto di un'altra famiglia che può sostenere sia materialmente che moralmente questo bambino in quel momento di difficoltà, senza nessun vincolo di approcciazione. Sì, credo che sia un periodo di affidamento temporale in cui una famiglia chiede, che è una famiglia che non può momentaneamente occuparsi di un figlio, chiede che venga accudito da altre famiglie o da altre strutture, non lo so. Vagamente, sembra più come una pseudo adozione o non c'è niente? Più o meno. Sì, adozione a tempo determinato. Grandi linee, non nello specifico. Penso bambini affidati e temporaneamente delle famiglie in attesa di situazioni familiari si risolvono. Sì, ho sperimentato una cosa di questo genere, anche se molti anni fa, quando ancora l'istituto non era riconosciuto giuridicamente. L'adozione è in via definitiva, mentre l'affido è un affido temporaneo a una famiglia scelta dai servizi di un bambino non ancora dichiarato in stato di abbandono. Sì, 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 molto bene. Avendo le possibilità e le condizioni economiche, perché no? In questo momento, guarda, non c'ho le case, non è lavoro. Ma in linea teorica, sì, l'unica riserva che ho è sulla quantità di tempo che io posso luccare questo momento. Cioè, attualmente non lo potrei fare, perché già sta poco dietro il mio. Ma lo farei, ma per mancante di spazio è impossibile. E una cosa a cui ho pensato, situazioni difficili che richiedono una stabilità anche emotiva e un progetto di vita ben saldo, penso, prima di prendere una responsabilità del genere. Disposta? Sì, in grado? Non lo so. Beh, allora, volendo, sì, nel senso, il volere è una cosa, però il potere è un altro. Penso che un bambino, se in adozione, avrà bisogno comunque di tanta cura, anche di beni materiali. Io lo penso diverso, cioè nel senso, ci vuole tempo per abituarsi, cioè nel senso, sarebbe molto difficile, lo vedo così. Cioè, per carità, i bambini sono carini, però alla fine il momento in cui lui cerca la mamma sarebbe un po' difficile da tranquillizzare, perché noi non siamo i genitori, siamo tutto un altro genere. Cioè, in esperta, in esperta, in esperta, troppo no, per ragionare i genitori, soprattutto. Non abbiamo già un bambino in affido. Una condizione ideale per un bambino in questa situazione non esiste. Forse la meno peggio. Sicuramente vivere in un ambiente, anche se per poco tempo, vivere in un ambiente in cui un ragazzo viene accolto, viene ascoltato, viene capito, è una cosa positiva. Questa è un trauma per un bambino, distaccarsi dalla famiglia, anche se le condizioni familiari sono dure, drastiche, il bambino probabilmente coglie solo il distaccamento dalla madre o dalla ... però... Dando un incentivo, ma nemmeno una cifra per mantenere famiglia, un incentivo. Un premio anche di 100 euro per dire, fai qualcosa, tu anche se spendi 300 e non vorresti niente, io ti do 100 euro per... Ma io posso... è morale, non sentissi abbandonati. Quando metti a fare spazio, perché la casa è... Posta in piedi. È precisa. Poi un sostegno su tutti, appunto, a partire dal fronte economico, ma anche... un sostegno psicologico e umano e di confronto anche, dovrebbe essere, penso sia, il minimo. No, un'ottimissima preparazione da parte dei servizi, conoscere molto bene anche la mia famiglia, nel senso essere aiutata a conoscere i pregi e i difetti della mia famiglia, che poi dovrebbe accogliere un bambino che già di problemi ne ha tanti, quindi essere sicura di non fare peggio che meglio. Non lo so, nel mio caso ho un supporto economico sicuramente, poi adesso potrei perché sono in maternità, però in generale lavoro tantissimo, quindi non avrei un aiuto. Sicuramente bisogna non sentirsi da soli, nel senso che la rete dei servizi che gestisce tutta la problematica della famiglia d'origine del bambino deve essere molto presente, disponibile. Noi siamo molto seguiti anche dal punto di vista psicologico, siamo molto contenti di questo, ecco, qui a Firenze funziona molto bene. Forse è migliorabile l'aspetto del supporto economico, la difficoltà più grossa che abbiamo è nell'organizzare privatamente gli aiuti per gestire tutti i bambini e ovviamente il contributo che è previsto è assolutamente simbolico. Ultimamente sono due anni che ho un pochino più aiuto perché all'inizio, anche con i servizi sociali, tutti gli anni cambiavamo assistente sociale. E' un po' sinceramente più appoggiata mi sento, anche perché ora gli hanno consigliato alla bambina un supporto psicologico per aiutarla anche lei stessa. E' per un desiderio di un'esperienza molto molto bella, che è stato bello con i nostri figli naturali e questa è una cosa ancora più bella forse. Questa bimba l'ho conosciuta fin da quando era piccolina e è stata in un istituto, aveva pochissimi giorni e con la mia famiglia abbiamo deciso di prendere questa bimba in affidamento perché ci siamo affezionati. 13 anni. Da 3 anni a 11 anni. Generalmente diciamo che i due anni sono un periodo piuttosto breve per la risoluzione delle problematiche che hanno determinato l'avvio dell'affido. Sui 4 anni direi, ho visto un po' almeno la media, la media è stata sui 4, poi abbiamo anche ovviamente affidamenti molto più lunghi o anche più di breve. Fin dall'inizio, buone fin dall'inizio e noi poi altre sorelle abbiamo instaurato buonissimi rapporti con le sorelle, lei è molto affezionata alle sorelle e ci frequentiamo tutt'ora alla loro casa, noi vengono da noi, andiamo da loro, insomma sinceramente è una bellissima esperienza di affidamento allargato come si può dire. La mia famiglia d'origine era costituita solo dalla mamma e si si veniva a trovarmi, quindi il filo non si è interrotto, era problematico ma insomma non si è interrotto, ecco, diciamo che questo distacco dalla mamma era comunque dolorosissima e solo grazie all'amore immenso e alla capacità di questa famiglia che mi ha accolto mi è rimasto dentro soltanto cose belle di quel periodo, ecco dopo aver superato il dolore per la lontananza dalla mamma. Sì, io personalmente per come l'ho vissuta sì, è una bellissima cosa, specialmente se si trova la famiglia naturale ben disposta me l'ho trovata io. È stata una famiglia che mi ha dato appunto questo grande amore e le regole per vivere e anche la solidarietà perché per fortuna in questa famiglia c'erano già due figlie, quindi due sorelle che io ho trovato e con le quali ho imparato a condividere la vita, le cose, i momenti, credo che queste cose mi siano rimaste dentro. Per alcuni anni no, perché per me era fondamentale immergermi nella nuova famiglia che la mamma si era sposata e quindi avevo tutto da imparare, da capire, da farmi accettare, però dopo alcuni anni quando sono stata un po' più grande è stata una cosa bellissima ritrovare questa famiglia fidataria e confermare l'affetto reciproco e anche la gratitudine da parte di me. C'è una responsabile che sarei appunto io. Il centro proprio affidi è composto da due assistenti a questo personale, due assistenti sociali e due psicologi. In prima battuta viene effettuato alla famiglia o alla persona singola che si avvicina al centro affidi viene effettuato un colloquio informativo e viene raccolta la domanda di disponibilità. Dopodiché appunto se la famiglia o la persona si dichiara disponibile a proseguire nel percorso viene inserita in un corso di formazione. Diciamo che al termine di questo corso, se la famiglia è ancora disponibile a proseguire, viene fatta quella che è proprio una valutazione. Sottolineare che proprio il compito del centro affidi è quello di accompagnare la famiglia affidataria in tutto il percorso dell'affido, quindi appunto come diceva Sandra, dal momento in cui la famiglia affidataria inizia a pensare di rendersi disponibile nell'affido fino anche alla fine dell'affido, quindi anche qualora si arriva alla conclusione dell'affido il bambino rientra in famiglia, che è un momento molto delicato in cui noi pensiamo sia molto importante sostenere e accompagnare la famiglia. Io credo che l'informazione progressiva e graduale dell'affido che ha a che vedere con una politica di sensibilizzazione che sta diffondendosi nel territorio abbia fatto sì che l'affido possa essere vissuto non come una forma di genitorialità sostitutiva quindi diciamo così una sorta di scorciatoia nei confronti dell'adozione piuttosto come un'esperienza pura, cioè fine a se stessa, è ben diversa da un'esperienza adottiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!